Sono Matteo Baronetto, ristorante del Cambio Torino. Oggi preparerò un nigiri di seppia e un nigiri di lardo con riso zafferano. In sostanza abbiamo cercato di capovolgere il senso del nigiri, un piatto molto tradizionale giapponese. Spesso è dove troviamo il riso sotto e il pesce crudo sopra. Io invece ho deciso in quello di seppia di mettere la seppia sotto e sopra una striscia di riso in modo da dare una consistenza morbida. In quello con il lardo invece è il lardo sempre sotto a cubetti e sopra un riso allo zafferano. E poi quello allo zafferano lo accompagniamo con una salsa italiana, quindi con un po' di pomodoro, basilico e un po' di sugo di vitello. Grazie a tutti!